La comunità di Capistrello ha il lutto per il sindaco Cicciotti, è un dramma per tutta la cittadinanza, nuovi casi di avvelenamento nella Marsica, cerchi uccisi 9 cani, caro pedaggi, sindaci impegnati nella lotta, manifestazione il 19 settembre nella sede ministeriale, calcio agli appuntamenti della domenica, eccellenza Miternina Paterno in promozione Angizia, Lucco Tossicia. Quali al saluto dagli studi di Antenna 2, dunque l'intera comunità di Capistrello si è unita e si è chiuse in un profondo dolore per la scomparsa di Nicolina Pallesche, 55 anni, e sua figlia Martina Bucci, 29, morti in un tragico incidente, ieri pomeriggio sull'ex superstrada dell'Iria all'altezza dell'uscita della Galleria del Salviano tra Avezzano e Capistrello. Le due viaggiamano su una panda vecchio tipo quando prima della Galleria del Salviano si sono scontrate con un appunto, con a bordo un uomo, una donna e la loro bambina di pochi anni. Tutti e tre sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano, non corrono pericolo di vita. Un frontale dunque che ha fatto balzare la panda al lato della carregiata distruggendole l'altra auto al centro della strada satale 690. Per Nicolina e Martina non c'è stato quindi nulla da fare. Erano persone speciali, conoscete da tutti come brave persone, gentili e cortese, una di quelle classiche famiglie tradizionali che rispettano gli altri e i propri doveri. Martina stava pensando di andare a convivere con il suo ragazzo. È una tragedia. Così il sindaco di Capistrello, Francesco Cicciotti, ricorda le due donne. Il primo cittadino ha parlato di un dramma per un'intera comunità. Martina commessa in un punto vendita stava pensando al grande passo con il fidanzato per arrivare al matrimonio. Il sindaco Cicciotti ha annunciato nei giorni del funerale e proclamerà il lutto cittadino. Il Capistrello piange anche un'altra perdita, così come tutte le chiese della Marsica. Quelle di Monsignor Ezio del Grosso, morto all'età di 90 anni. Del Grosso è nato il 18 dicembre 1928 a San Benedetto di Marsi. Nel 1940 è entrato in seminario dove ha continuato gli studi ginnasiali già iniziati privatamente. Nel seminario regionale di Chieti ha compiuto gli studi liceali e teologici. Viene ordinato sacerdote il 29 giugno del 1952 a San Benedetto di Marsi. È nominato parroco di Padiara di Marsi il 14 agosto dello stesso anno. Sarà parroco di Padiara per 50 anni. Nel 1955 è nominato parroco anche della limitrofa parrocchia di Casella Fiume dove lavorerà per bene a 25 anni. Si è laureato in pedagogia presso l'Università La Sapienza di Roma, facoltà di Magistero e in giurisprudenza presso l'Università di Teramo e in Sacra Teologia. Ha ottenuto il diploma di pastorale in catechesi presso la Pontificia Università Lateranense che l'ha abilitato all'insegnamento della religione nelle scuole statali superiori. Le secque saranno celebrate a Capistrello lunedì 10 settembre alle ore 10 nella chiesa di San Giuseppe. E si susseguono i casi di avvelenamento di animali nella Marsica. Nove cani da pastore mare in mano abruzzese sono stati avvelenati a cerchio in località Trinità con trada San Silvestro. L'immediata individuazione dell'avvelenamento ha permesso alla famiglia Bicaretti di trarne in salvo tre. Così in una nota Walter Capurale, già capogruppo regionale dei Verdi per due legislature, attualmente presidente di Animalisti Italiani Olus. Sul posto, prosegue, sono state rivenute altre otto esche avvelenate. Le carcasse degli animali sono state trasportate all'Istituto Zoo Profilattico di Caruscino per scoprire la sostanza utilizzata. Le autorità sospettano l'uso di strechnina in base ai sintomi riportati dai cani. Sono deceduti dopo 10 minuti di convulsioni, generando bave e schiume in eccesso. Un episodio orribile che non rimarrà impunito. La nostra associazione si costituerà parte civile. Abbiamo espresso la nostra vicinanza e la nostra solidarietà a una famiglia che ha perso degli impareggiabili compagni di vita, conclude Capurale. Questo ennesimo atto di crudeltà contro i nostri fedeli amici a quattro zampe deve portare il governo ad inasprire le pene verso chi maltratta o uccide di animali. Il Parlamento deve trasformare in legge le previsioni dell'ordinanza ministeriale contro i bocconi avvelenati e soprattutto adottare delle misure restrittive sulla vendita delle sostanze velenose facilmente reperibili in commercio. Questi prodotti tossici rappresentano tra l'altro una minaccia per l'ambiente. Avvelenando la catena alimentare si inquina il suolo e le sue falde acquifere. Cambiamo argomento. La commissione valutazione di impatto ambientale della regione Abruzzo ha archiviato la pratica del progetto industriale di acqua e minerali per l'Italia, l'ex Norda, concessionario provvisorio delle sorgenti di acqua minerale Sant'Antonio Sponga di Canistro. L'atto non è stato ancora pubblicato sullo sportello regionale ambientale, ma che sia stato rincenziato e stato confermato da fonti interne dell'ufficio regionale Via. Un passaggio inevitabile del resto, dopo che acqua e minerali per l'Italia, che aveva fatto ricorso contro la necessità della via imposta invece dalla regione, non ha rispettato l'ultimatum che scadeva il 26 agosto per la consegna della documentazione integrativa richiesta, necessaria a chiudere finalmente la valutazione sulla realizzazione del nuovo stabilimento e delle condutture per un investimento quantificato in 20 milioni di euro. Ad imporlo del resto il decreto legislativo 152 del 2016, che stabilisce che, qualora entro il termine stabilito, il proponente non deposite la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Il prossimo passaggio dovrà essere uguale alla revoca del bando aggiudicato provvisoriamente alla Norda nel marzo 2017 e dunque l'indizione di un nuovo bando. E torniamo a parlare delle caro pedaggi, sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il caro pedaggi dell'autostrada 24 a 25, hanno formulato una nuova richiesta d'incontro al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, da calendarizzare in concomitanza con la manifestazione organizzata per il prossimo 19 settembre, dalle ore 10.30 al piazzale della sede ministeriale. Ne danno notizia con una nota di stessi amministratori che hanno adottato la decisione di un nuovo confronto. Dopo quello considerato non produttivo delle scorse settimane, nel corso della riunione di ieri a Carsoli. Nel precisare che verrà indicato il 30 settembre quale termine ultimo per l'accodimento delle stanze già note come il blocco degli aumenti delle tariffe, del 1 gennaio scorso, lievitati di oltre il 12%, i sindaci annunciano che in caso di mancato accoglimento delle stanze inizieranno una nuova mobilitazione con azioni attive anche presso i caselli autostradali. Nella nota viene comunicato che sono state programmate due conferenze stampa per dare indicazioni sulla manifestazione del 19 settembre, sollecitare la più ampia partecipazione e sostegno, la prima pescara il 13 settembre alle 11, la seconda a Tivoli, il giorno successivo quindi il 14 alle ore 12. Oltre a pedaggi sul tavolo anche la creazione di un tavolo istituzionale promotore di una legge che modifichi gli attuali criteri concessori e che ridetermini le condizioni di composizione delle tariffe, la declassificazione del tratto urbano della 24 che va dalla barriera di Roma-Est fino all'intersezione con la tangenziale Est e la declassificazione di alcuni tratti da Montani e Nonna. L'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila e l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere Comunicano che sono cambiati modalità ed interlocutore istituzionale per le iscrizioni alla sezione speciale dell'anagrafe antimafia degli esecutori meglio nota come white list, cioè l'elenco degli operatori economici impegnati nella ricostruzione privata post-sisma dell'Abruzzo del 2009 sezione imprese. Da ieri la competenza è passata alla struttura di missioni antimafia sisma 2016 in cui confluisce l'elenco degli operatori economici e che opererà le conseguenti procedure operative e il relativo cronoprogramma di attuazione. Le istanze dovranno quindi essere inoltrate alla struttura di missioni direttamente dagli operatori economici, esclusivamente in modalità telematica tramite accesso alla piattaforma e compilazione della prevista modulistica accedendo al seguente link anagrafe.sisma2016.gov.it slash Aquila. Oggi il tenente colonnello Giovanni De Bellis, comandante dell'ufficio comando del comando provinciale carabinieri di Aquila, dopo 12 anni di permanenza nel capologo abruzzese, lascia il proprio incarico perché trasferito a Perugia, dove assumerà da lunedì prossimo analoghe funzioni presso quel comando provinciale carabinieri. Comandante provinciale, colonnello Nazareno Sant'Antonio, nel salutarlo alla presenza di una rappresentanza di carabinieri in servizio nella provincia dell'Aquila e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è espresso parole di elogio per l'operato del tenente colonnello De Bellis, caratterizzato da alto senso del dovere ed impareggiabile impegno, profuso soprattutto nel periodo post-sisma del 2009, nel corso del quale è stato impegnato nella difficile riorganizzazione logistica ed operativa dei servizi che l'arma dei carabinieri ha messo a disposizione a favore dei territori colpiti dal grave evento, ben interagendo e facendosi apprezzare dalle altre componenti istituzionali. Comandante provinciale, inoltre, è sottolineato le pregevoli doti umani dell'ufficiale, che è stato un sicuro punto di riferimento dei comandanti provinciali che si sono succeduti nel capoluogo, formulando a lui ed alla sua famiglia i migliori auguri per un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni professionali e familiari. Il tenente colonnello De Bellis, nel ringraziare il comandante provinciale, ha manifestato parole di sentita riconoscenza per tutto il personale che ha collaborato con lui in questi anni, dicendosi dispiaciuto di lasciare un territorio particolarmente bello come quello aquilano. Domani, domenica, terza ed ultima giornata di site.it, vent'anni e tre giorni di informazione, il festival dedicato al ventennale del giornale e all'informazione, organizzato dalla redazione con il circolo ipico marsicano e la collaborazione delle proloco di Lucco De Marsi, di Borgoncile e di Avezzano con il patrocinio del comune di Lucco De Marsi. Nel finale, domani dalle 15 alle 20, sarà presente un servizio filatelico speciale e celebrativo. Saranno disponibili quattro cartoline realizzate per l'occasione da Giuseppe Panteleo e creata dal pittore Corsi. Saranno inoltre disponibili le cartoline già realizzate dal Aleph Editrice in occasione del centenario del terremoto del 13 gennaio 1915. Primo appuntamento è per le 10 al circolo ipico, con la dottoressa Manuela Ceccaroni, della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che trarà una breve conferenza a tema, l'emissario di Claudio Torlonia, qui seguirà una visita guidata all'emissario. E dalle 10 l'arte protagonista, nell'estemporanea di pittura non competitiva, la cura di Elisa Oprisse. E alle 12.30 incontro con gli artisti del gruppo Marsarte. Un altro appuntamento è con il mio Silone, nel quarantennale della morte, e la conferenza a cura dello storico Mauro Canali, in programma per le 16.30. Mafia, antimafia, caso montante, il ruolo dei giornalisti e il tema, invece, della conferenza in programma per le ore 18, a cura di Attilio Bolsoni, giornalista di Repubblica, seguita dalla proiezione del docufilm Silencio, realizzato dal maestro Cappello, e Bolsoni, dedicato ai giornalisti assassinati in Messico e in Calabria. L'Associazione Comunicazione e Immagine, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, invita a partecipare alla conferenza stampa che si terrà a Teramo, martedì 11 settembre, alle ore 11, nella Sala Giunta del Comune, di Via Carducci, convocata per illustrare i contenuti e finalità della serata di premiazioni del 18esimo Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale, che si celebrerà sabato 15 settembre, a partire dalle ore 20 e 30, nel Cineteatro Comunale di Teramo, condotta dal noto giornalista, presentatore televisivo Osvaldo Bevilacqua. La solica manifestazione, che per il secondo anno si avvare della collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, ha toccato dal 14 all'11 agosto Penne, Silvi Avezzano e Pescara. A Teramo, nella serata conclusiva, ci saranno prestigiosi ospiti. Sarà l'occasione in cui avverrà anche la premiazione del concorso dedicato a film, documentari, reportage e animazione che hanno come tema portante la natura, l'ambiente e le attività eco-compatibili. L'Università degli Studi dell'Aquila e il Consorso Aquedotistico Marsicano hanno sottoscritto una convenzione che attiva tirocini formativi per laureandi e laureande in Economia e Ingegneria Gestionale. La convenzione è stata firmata per Univac da Walter D'Ambrogio, direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell'Informazione ed Economia per il CAM da Manuela Morgante, presidente del Consiglio di Gestione. Referente del CAM, Albino Santucci, ha proposto una lista di progetti formativi che costituiscono per gli studenti una concreta opportunità formativa e professionalizzante. I studenti interessati possono avere notizie dal Dipartimento Ingegneria dell'Università. Sono in arrivo per i comuni abruzzesi importanti risorse da destinare alla progettazione esecutiva di opere contro il dissesto idrogeologico e nei giorni scorsi la Regione Abruzzo ha trasmesso alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente l'elenco degli interventi ammissibili. I fondi riservati alla Regione Abruzzo dal cosiddetto collegato ambientale voluto dall'allora Ministro Galletti sono pari a 7.584.800 euro ha spiegato l'assessore regionale ai lavori pubblici Lorenzo Berardinetti e saranno necessari per favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico rendendo le stesse immediatamente cantierabili. Gli interventi finanziati che erano già stati caricati sulla piattaforma Reindis nell'ottobre del 2016 alla luce della loro priorità sono 45 per un totale di 6.516.169,61 euro. Grazie a questo passo in avanti veravviata la procedura amministrativa di valutazione degli interventi da parte del Ministero dell'Ambiente che si concluderà con l'approvazione dell'elenco e la sua formalizzazione alla Regione Abruzzo con il trasferimento della prima quota da vadere sul finanziamento assegnato. Una volta conclusa questa fase a proseguito Berardinetti si potranno stipulare con le amministrazioni comunali le convenzioni per i finanziamenti e avviare la progettazione esecutiva. Dal momento che i progetti finanziabili non coprono l'intero fabbisogno assegnato alla Regione Abruzzo ci siamo attivati per chiedere al Ministero di inviarci un ulteriore elenco per permetterci di finanziare altri interventi. Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila ha promosso una conferenza stampa per la presentazione dei nuovi progetti di servizio civile del centro inseriti all'interno dei nuovi bandi pubblicati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La conferenza stampa è in programma per mercoledì 12 settembre alle ore 11 presso la Sala Silone del Consiglio regionale dell'Abruzzo in via Michele Diacobucci all'Aquila. Nel corso dell'incontro il Presidente del Centro di Servizio Civile Luigi Milano presenterà insieme al Direttore Concetta Trecco i 41 progetti che saranno attivati presso associazioni e amministrazioni locali della provincia dell'Aquila e della provincia di Teramo che ospiteranno un totale di 221 volontari. L'organizzazione, i programmi, le idee per dare un futuro migliore alle nuove generazioni e le alleanze in vista delle prossime elezioni regionali in Abruzzo. Questo si discuterà nel Comitato regionale dell'Udc convocato dal segretario regionale Enrico Di Giuseppe Antonio per venerdì prossimo alle ore 17.30. Un'analisi importante che ci consentirà di fissare i punti programmatici dell'Udc in vista delle regionali sottolinea il segretario regionale Di Giuseppe Antonio vogliamo essere pronti a dare il nostro contributo di idee ma anche di persone in grado di rappresentare le istanze dei nostri territori. E sono aperte l'iscrizione ricordiamo al premio CNA Cambiamente il concorso che scopre premia e sostiene le migliori imprese nate negli ultimi tre anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni promuovere il territorio e le comunità innovare prodotti e processi per costruire il futuro. Il premio nazionale dedicato alle start-up innovative è giunto alla sua terza edizione è stato presentato all'Aquila nella sede della CNA le candidature possono essere presentate entro il 30 settembre 20.000 euro in viaggio a Dublino sono i primi premi in palio oltre a incontri con maggiori esperti di Google e Facebook e opportunità di confronto con Venture Capitalist fondi di investimento con il supporto di Argincassa la fase finale della selezione si terrà il 30 novembre a Roma tutte le aziende selezionate riceveranno un bonus di 2.000 euro da utilizzare per servizi di consulenza qualificata con i professionisti CNA della sede territoriale più vicina la CNA è molto attenta alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali dichiarato calice e ne promuove la crescita molto spesso immaginiamo il nostro settore produttivo ancora molto tradizionale invece con questo premio abbiamo scoperto che ci sono realtà molto significative fatte da giovanissime che hanno buone opportunità di mercato l'oredì 1 ottobre il ministro per il Sud Barbara Lezzi che si è dimostrata attenta e disponibile verrà in Abruzzo nell'ambito di un'attività di ricognizione e confronto che il governo sta avviando nelle regioni meridionali ad annunciare la data il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli che a Roma ha incontrato il ministro Lezzi per una valutazione delle risorse del fondo sviluppo e coesione degli altri ministeri e le altre regioni coinvolte la visita di Abruzzo del ministro Lezzi ha sottolineato Lolli in una nota sarà l'occasione per verificare l'avanzamento della spesa di tutti i fondi comunitari e per approfondire le prospettive del CIS il primo contratto istituzionale di sviluppo per il turismo montano che l'Abruzzo ha sottoscritto con il governo e gli enti locali scatta, posta e vince questo litter da seguire per fotografarsi con lo splendido scenario del velino ricordiamo che nell'ambito della manifestazione Sapori e Saperi del Velino che si terrà sabato 22 e domenica 23 nel borgo di Rosciolo dei Marsi torna l'appuntamento social gli organizzatori nell'ambito di un progetto di valorizzazione del territorio hanno voluto unire la tradizione e l'innovazione per creare un concorso che possa far conoscere ancora meglio il Monte Velino alle spalle della montagna che domina tutta la Marsi che è stata infatti installata la cornice del Velino e proprio lì si deve arrivare per immortalarsi con lo sfondo della montagna marsicana basta quindi scattare la foto nell'area dove si trova la cornice postarla sulla pagina Facebook Sapori e Saperi Velino con la hashtag cornice del Velino a chiedere agli amici di mettere un like quella che otterrà più consensi entro sabato 22 settembre vincerà uno zaino da trekking messo in palio dagli organizzatori ed ora passiamo alla pagina sportiva con il calcio come accade ormai da anni con la fine dell'estate prendono in via anche i campionati appunto come detto di calcio in eccellenza la prima giornata si è già disputata domenica scorsa mentre domani sarà la volta anche del torneo di promozione mentre per la serie D bisognerà aspettare domenica prossima 16 settembre e in quella data esordirà anche l'avezzano al quale il calendario ha riservato niente di meno che il Cesena vale a dire l'avversario di gran lunga più titolato dell'intero girone per quella circostanza il presidente Paris ha già indetto la prima giornata bianco-verde per cui non saranno valide tessere e abbonamenti ma di questo particolare avvenimento torneremo a parlare diffusamente nel corso della prossima settimana torniamo ora a turnare di eccellenza promozione per vedere gli impegni delle formazioni marsicane in eccellenza il paterno sarà ospite della miternina mentre la partita del capistrello è stata rinviata a causa del grave incidente che ha colpito la famiglia del direttore sportivo Cesidio Palleschi è in promozione esordio casalingo per l'ambiziosa Angizia Luco che al comunale affronterà il Tossicia derby marsicano invece per il Puccetta che sarà ospite dello Sportline Celano e parliamo sempre di calcio in attesa dell'inizio domenica 16 settembre del campionato di Seredì è stata ufficializzata una notizia che ha deluso non poco i sostenitori del capoluogo infatti la nuova società l'associazione sportiva delle tantistiche a Città dell'Aquila giocherà nel campionato di prima categoria ad annunciarlo il commissario della FIGC nazionale Roberto Fabricini inviata al comitato regionale FIGC al comune dell'Aquila al presidente dell'ASD Città di L'Aquila Marco De Paulis alla luce della posizione espressa dal comitato regionale Abruzzo si legge nella nota nulla o sta da parte della federazione a che l'ASD Città di L'Aquila possa essere iscritta in via straordinaria al campionato regionale di prima categoria precisamente nel girone A che raggruppa tutte le formazioni della provincia aquilana la comunicazione è arrivata a seguito dell'ennesima convulsa giornata durante la quale l'assessore comunale allo sport Alessandro Piccinini aveva reso noto che il sindaco Pierluigi Bionde si sarebbe messo in contatto con Fabricini e per l'eccellenza non si poteva fare nulla in quanto il campionato è già iniziato senza dimenticare che c'erano state anche le barricate delle altre squadre abruzzesi contro l'inserimento in zona Cesarini della squadra aquilana unica consolazione che poteva andare persino peggio senza il provvedimento straordinario di Fabricini la nuova compagine aquilana è nata dopo il tragico fallimento dell'aquila calcio 1927 che militava in Serie D sarebbe dovuta ripartire dal gradino più basso la terza categoria ed è tutto pronto per la festa del rugby che si terrà domani presso la stadio di via dei gladioli ad Avezzano a partire dalle 14.45 con un festival del mini rugby e si potrarrà fino a tardasera la società giallonera guidata dal presidente Alessandro Seritti nel corso della manifestazione consegnerà le borse di studio Elio Seritti storico dirigente giallonero ai giovani atleti della società che si sono contraddistinti per meriti scolastici e sportivi ripartiamo per una nuova stagione sportiva con grande entusiasmo ha dichiarato il presidente Seritti ai nostri di partenza schiereremo ben otto categorie di atleti a partire dai piccoli dell'under 6 fino ad arrivare alla squadra Seniors rispettando in pieno tutti gli obblighi sportivi imposti della nostra federazione dopo la consegna delle borse di studio si terrà anche un triangolare Seniors che vedrà impegnate oltre l'avezzano rugby guidata dal neo allenatore Pierpaolo Rottilio al suo esordio stagionale sulla tonchina giallonera anche due compagini laziali Arnold Spartaco e Civitavecchia l'arrivo di Pierpaolo Rottilio ha portato entusiasmo in tutto l'ambiente ha specificato Seritti grazie e anche alla figura di Vincenzo Troiani come collaboratore esterno siamo fiduciosi di disputare il campionato di Saribia a buoni livelli inoltre ha sottolineato sempre Seritti l'inserimento di Carlo Cerasoli porterà sicuramente fiducia ed esperienza al riparto di mischia di una squadra ancora e per fortuna molto giovane e questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima di salute vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci alla prossima edizione Grazie a tutti Grazie a tutti